Carboidrati, odio e amore degli italiani, soprattutto quando la prova a costume è alle porte. Demonizzati da molti e rinunciabili per i più, prodotti come gallette, grissini, crackers, oggi si affiancano al pane negli scaffali e spesso lo sostituiscono nelle tavole degli italiani. Alla ricerca di alternative, pratiche e salutari e amate sono anche le farine speciali. Il classico pane di farina bianca continua ad essere venduto? Certo, sì sì, è molto buono e sì sì, è venduto. Qual è la farina più alternativa che è adesso sul mercato? È segale, 100% integrale, multicereali, basta questo qui. Ma è un pane per VIP, nel senso che è costoso o è alla portata di tutti? No, dipende dalla qualità pure della farina, come dipende dalla farina che si usa.